Cari colleghi e cari colleghi, buongiorno. Sono qui per rettificare una errata comunicazione che mi è pervenuta tramite mail o per giornale, secondo la quale c'era una serie di debacle finanziaria nell'ambito del fondo pensione. Niente di più falso. Non è vero che c'è una crisi finanziaria, perché è tutt'altro, visto che nel 2011 il bilancio civilistico e quindi di un mercato particolarmente turbolento ha realizzato comunque un utile positivo di circa 12 milioni di euro che sono quindi in accrescimento di patrimonio. Viceversa, quello che si dice e si è definita debacle finanziaria è un disavanzo prospettico, cioè calcolato dopo una vita del fondo di circa 100 anni, che potrebbe essere, nell'ipotesi in cui non si potessero in atto dei correttivi. Debo subito dire che questo disavanzo tecnico è motivato da una serie di fattori. Il primo, quello dell'aumento della speranza di vita, che obbliga ad aumentare le riserve sulle quali verranno calcolate le future pensioni. Il secondo è la violenta diminuzione delle rendite finanziarie di questo mercato che da anni sta dimostrando difficoltà notevoli di realizzazione di utile, e malgrado questo, come ho detto prima, abbiamo realizzato comunque un utile nel 2011. E per terzo la caduta verticale del numero degli aderenti, cioè dei contribuenti del fondo. Quindi siamo intervenuti per modificare questo possibile disavanzo, ripeto, valutato su 100 anni di vita da oggi, probabilmente in quel momento forse non ci sarò manco più, attraverso la modifica statutaria che ha consentito di passare da un disavanzo, quindi negativo, a un avanzo positivo di circa 17 milioni di euro. Questo per fare giustizia di una sballata informazione che vi è pervenuta e che mi obbliga a rendere chiaro la posizione del fondo. Il reimpianto di questo statuto del fondo è stato approvato dall'Assemblea dei Delegati su delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del fondo stesso e sono stati quindi approvati nel corso dell'ultima Assemblea dei Delegati. Mi spiace dover ricorrere a questo mezzo per dare analoga diffusione di notizie su questo fatto che mi ha profondamente disturbato, perché non è certamente questo il momento in cui si possa tranquillamente mettere in discussione la gestione e la tenuta del fondo stante il fatto che non solo non risponde a verità, ma è vero, esattamente il contrario. Quindi pregherei coloro che intervengono attraverso i mezzi di stampa, i mezzi informatici su questo argomento di informarsi preventivamente, di verificare le loro convinzioni e successivamente di fare quello che più a loro aggrada. Tutto però non deve essere mai fatto in danno e in spregio del fondo pensionagente che ha ricevuto anche da giornali qualificati di categorie finanziarie, quali sono i 24 ore, i complimenti per l'eccellente gestione che il fondo stesso ha realizzato negli ultimi anni fino ad oggi. Vi ringrazio per avermi ascoltato e sono convinto che sarà stato esauriente quanto vi ho testè dichiarato. Grazie a tutti.